Avete già partecipato al crowdfunding per aiutare il teatro dalla contraddizione? Affrettatevi, il tempo sta per scadere. Chi non aiuta ha un culicchio sul culo. Aprite, aprite, ma è chiuso. Sono qui con Sabrina Therese del teatro della contraddizione. Paroldi. Sì, Sabrina, perché è così importante donare? Beh, è importante donare perché con la donazione ci consentite di sopravvivere. Cioè, la sopravvivenza di questo teatro di ricerca è fondamentale. Sì, la ricerca è molto importante. Ma tu hai donato? Grazie a tutti.